Signor Ricci, calma! Chi sono quelli? Che cos... Oddio! Che cos'è? Oddio, che è successo? Chi è arrivato? No, eh, sono una sorpresa, sono dei musicisti! Ma quali musicisti? Quelli stanno sotto al bar a casa mia, si mettono lì a spacciare la roba! Ma no, ma chi è che... Ma attacca, non gli sopporti! Ma quelli sono miliardari, vengono sul bar sotto la sua... Ma come hanno fatto i miliardi? Hanno venduto 8 milioni di dissi! Sì, dopo domani hanno... Ma tranquillo, in irvana! Drogati! E' giusto! 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 Quassi con il mio fordo! Tantico! C'è un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 No, no, no 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 No, 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 no Vieni qua, ma dove vai? Ma non la ho? Sparcatelo! Pubblicità! Pubblicità! Ma da che? Pubblicità!